e ti saluto con la pace del signore gloria a dio oggi sabato primo ottobre 2022 oggi è il giorno del compleanno di mia sorella io non lo so se stai guardando questo video però voglio dirti laura auguri di buon compleanno dio benedica grandemente la tua vita e tutta la tua famiglia alleluia ma voglio darvi anche un'altra bella notizia che non ve l'ho potuta dare nei giorni prima perché è stato organizzato all'ultimo istante oggi pomeriggio anzi questa mattina intorno alle 12 prendo l'aereo per andare in germania dice cosa vai a fare in germania fratello andrea mi hanno invitato a predicare l'evangelo in alcune comunità e sarò lì per raccontare la mia testimonianza sarò lì per annunciare l'evangelo e poi sarò lì per un incontro di giovani allargato quindi sarà un incontro particolare dove dove sarò il predicatore principale della serata quindi per me è un motivo di grande gioia e però vi chiedo di pregare pregate affinché dio possa riempirmi di spirito santo e possa mettermi nel cuore una parola buona da condividere con questi cari fratelli sono comunità italiana quindi non devo imparare il tedesco e non non avrò neanche un traduttore forse ecco questo non lo so però sono comunità italiana vi chiedo veramente di sostenermi e ritornerò martedì giorno 4 quindi saranno dei giorni belli intensi però io confido nel signore che lui è buono e sicuramente ha preparato questo incontro già da molto tempo e noi vogliamo dire signore eccomi sono pronto siamo pronti amen ok ora però vogliamo ascoltare la parola di dio che questa mattina ci viene rivolta in questi termini ogni carne è come l'erba e ogni sua gloria come il fiore dell'erba l'erba diventa secca e il fiore cade ma la parola del signore rimane in eterno prima lettera di pietro capitolo 1 i versetti 24 e 25 e il titolo di questa meditazione biblica è questo autunno il cadere delle foglie bisbiglia sempre qualcosa ai viventi dice un proverbio russo in effetti quando vediamo le foglie che iniziano ad ingiallire poi si staccano e cadono lentamente a terra non percepiamo forse un segno precursore della nostra morte l'ingiallimento e la caduta delle foglie evoca la nostra limitatezza con il suo susseguirsi di malanni essa ci ricorda l'effimero di tutto ciò che termina che senso possiamo trovare in ciò che non dura e come consolarsi di non avere per destino altro che quello di una foglia i giorni dell'uomo sono come l'erba infatti egli fiorisce come il fiore dei campi se lo raggiunge un colpo di vento esso non esiste più poi il salmo prosegue ma la bontà del signore è senza fine per quelli che lo temono per quelli che custodiscono il suo patto salmo 103 c'è dunque una promessa di vita il nostro creatore esiste egli è fuori dal tempo e ci ama di un amore illimitato ecco come riavere speranza come farsi coraggio e dare un senso alla vita non aspettare una nuova primavera per rivivere fermati e pensa a dio riconosce che ha dei diritti su di te chiedigli semplicemente e sinceramente di aiutarti a credere a ciò che dice nella sua parola la bibbia a credere che il suo amore è più forte della morte conseguenza inevitabile del peccato legato alla nostra natura umana e dei peccati che commettiamo ovviamente oggi puoi ricevere il perdono delle tue colpe e vivere una vita nuova gesù cristo il grande vincitore della morte vuole donarti questa vita se decidi di affidarti a lui desideri questo perché in qualunque stagione ci troviamo vivere con gesù è realmente rivivere che bello gloria a dio questa è una meravigliosa meditazione un bellissimo messaggio che ha incoraggiato anche me stesso e mi viene da cantare proprio un canto che parla proprio dell'amore di dio amore grande profondo e sublime questo è l'amore del mio creatore non c'è niente nel mondo che possa eguagliarsi al grande amore del mio salvatore salvatore dio d'amore odio d'amore solo sei tu l'idio d'amore non c'è altro dio no non c'è fuori di te no non c'è fuori di te per me non c'è amor e questo amore eppure per te sì eppure per te dio ti ama gesù ti ama lo spirito santo ti ama e vuole vivere con te vuole starti vicino vuole salvarti e vuole stare per sempre alle tue spalle davanti a te ai tuoi laterali sopra di te accanto a te dentro di te lo desideri questo se la tua risposta è sì alleluia gloria a dio possiamo festeggiare insieme se la tua risposta è no ahimè dobbiamo continuare a predicare però è una cosa è certa che quando l'amore di dio ti conquista cambia tutto ti saluto con la pace del signore e mi raccomando prega per me che in questi giorni sono in germania stamattina parto alle 12 quindi confido anche nelle tue preghiere un abbraccio pace a te